Gli elementi più significativi dal mio punto di vista sono stati quelli legati all'innovazione tecnologica nel settore bancario, gli elementi che oggi le fintech e le big tech stanno ponendo sul mercato rappresentano sicuramente un nuovo paradigma della finanza che dal mio osservatorio legato al mondo dei trasporti cambia anche il modo in cui la gente percepisce non solo il denaro ma la propria vita, il proprio mondo del lavoro e il proprio tempo libero, quindi uno degli elementi secondo me sulla quale mi auguro che anche in futuro Club Ambrosetti possa darci degli elementi di innovazione, di novità sul mondo che cambia sempre più velocemente. Grazie a tutti! Grazie a tutti!